Anticipazioni tempesta d'amore. Venerdì 19 giugno 2020. Harry ha una forte discussione con la madre, il cui sfogo viene accolto da Jessica. Inoltre il giovane quando vede le due donne confabulare sull'abito da sposa, si insospettisce e crede che Marianne sia pianificando l'ennesima orchestrazione. La confessione di Tim risolleva il morale di Franzi. Nadia intanto è contentissima perché vede i due sempre più distanti e lontani. Natasha teme di non essere in grado di gestire da sola la situazione di suo marito. Forse ne dovrebbe parlare con Fabien. Michael intanto medita di ritirarsi in una clinica privata e sua moglie piangendo gli dice che non lo lascerà mai solo. Andrea e Linda nel frattempo scelgono di restare a Salisburgo per grande e dispiacere di Hildegard che ha bisogno del loro aiuto. Grazie a tutti.